Dopo l'annuncio di una chiusura dei reparti di otorino la ringoiatria e di psichiatria interviene l'ASPA di Catania e i servizi resteranno al Santissimo Salvatore. Il sindaco Nino Naso, relativamente alla questione ospedale Videnzia, è stata fatta un'importante battaglia, ora occorre andare avanti. Il consigliere comunale, Antonio Di Stefano, commenta le ultime evoluzioni sull'ospedale Santissimo Salvatore e invita le parti a proseguire il lavoro per tutelare l'ospedale di Paternò. Speleologi del club alpino italiano insieme ai carabinieri questa mattina hanno recuperato le lettere abbandonate da un postino di un'azienda privata nella grotta del Diamante a Belpasso. L'uomo, un ventunenne di Catania, è stato denunciato. 13 provvedimenti cautelari e sequestri condotti durante un'operazione della D.A. Messina, con cui è stata scoperta un'organizzazione che condizionava appalti per favorire imprenditori e amici. Nel giorno della vigilia della festa patronale ad Adrano, questa mattina uno dei momenti più attesi, la benedizione dei bambini, è stata impartita intorno alle 12 dopo il trasferimento del simulacro e delle reliquie di San Nicolo Politi in Chiesa Madre. I soldati canadesi che nel 1943 erano ad Adrano hanno aiutato mia madre a partorire trasferendola in ospedale. Gaetano Diolosà, 75 anni, adranita, racconta il suo legame con i canadesi. Questi ultimi nei giorni scorsi hanno celebrato il 75esimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia. Edizione della sera per Ciac News che apriamo così come avevamo fatto nell'edizione di ieri, ossia parlando dell'ospedale Santissimo Salvatore e seguendo le ultime evoluzioni che riguardano la vicenda. Dopo l'annuncio di una chiusura dei reparti di Otorino la Ringoiatria e di Psichiatria, infatti, è intervenuta l'ASPA di Catania che ufficialmente dichiara i servizi resteranno al Santissimo Salvatore. Sentiamo di più. Salvi i servizi di Psichiatria e Otorino la Ringoiatria all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Ad annunciarlo è l'ASPA di Catania che in una nota stampa a firma del direttore generale Giuseppe Giammanco afferma in merito alle voci che si stanno susseguendo in queste ore relative alla presunta eliminazione dei servizi di Otorino e di Psichiatria dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò è necessario chiarire che nella nuova rete ospedaliera tali servizi saranno mantenuti. Si smentiscono pertanto tali immotivati allarmi. La nuova articolazione dei servizi dell'ospedale di Paternò prevede una unità operativa semplice di Otorino la Ringoiatria che risponderà efficacemente ai bisogni espressi dal territorio in linea con i più moderni sviluppi della branca. Per quanto riguarda l'unità operativa di psichiatria si sta valutando una sua collocazione all'interno dell'ospedale per potenziarne i servizi erogati. E sull'argomento interviene il comitato Difendiamo l'ospedale. Ieri abbiamo ricevuto questa piacevolissima notizia da parte del dottore Giammanco il quale come qualcuno precedentemente aveva detto che entrambi l'Otorino la Ringoiatria e la Psichiatria erano completamente cancellate e invece rimangono. Questo significa che getta le basi di un evento decisamente positivo e che ci porta a credere ulteriormente e quindi il comitato diventa sempre più forte e vuole continuare a lottare affinché il nostro ospedale non dico che ritorni di nuovo ad essere l'ospedale di eccellenza ma che i reparti rimangono e che siano anche funzionanti. Noi ci siamo andati a relazionare con le istituzioni regionali ne approfitto per ringraziare il Presidente della Regione Nello Musumeci il quale ha dimostrato grande sensibilità ed io personalmente insieme ad altri componenti del comitato siamo andati a parlare con l'Assessore alla Sanità Ruggero Razza il quale ha dimostrato non solo grande sensibilità ma onestà intellettuale. E' chiaro che la battaglia non è finita ancora attendiamo notizie che arrivano da Roma ma questo ci spinge ulteriormente a lottare allora il mio è un invito dove istituzioni e comitato devono camminare a braccetto non c'è nessuna mania di protagonismo da parte nostra noi non siamo politici ma cittadini comuni che credono per il bene della collettività anzi ne approfitto per dire che il comitato è uno, è unico, è coeso, è compatto pertanto invito ai cittadini i cittadini devono sapere che le nostre riunioni, i nostri incontri sono per una finalità della nostra collettività pertanto chi vuole può aderire e può partecipare alle nostre riunioni ai nostri incontri perché sono trasparenti e aperti alla città Il comitato è abbastanza soddisfatto della notizia che è arrivata dall'ASPA di Catania insomma si era temuto il peggio alla notizia invece della soppressione di questi due reparti Allora noi siamo stati a Palermo e a Palermo ci avevano dato delle rassicurazioni poi abbiamo incontrato la stessa razza e anche lui ci aveva dato ulteriori rassicurazioni e quindi come comitato non abbiamo fatto altro che riportare al territorio quello che la politica ci aveva detto perché noi non facciamo politica, ma agiamo esclusivamente nell'interesse del territorio pertanto accogliamo con favore la notizia dell'ASPA di Catania che in realtà non fa altro che confermare quello che la politica già ci aveva detto Noi teniamo la mano alle istituzioni e siamo disposti a collaborare come abbiamo sempre fatto con tutte le amministrazioni che si sono succedute nel corso dei vari anni perché il comitato non ha colore politico ma ha come unico obiettivo e lo ha sempre dimostrato quello di salvare l'ospedale Santissimo Salvatore non capiamo quindi l'attacco che ci è stato rivolto nei nostri confronti in questi giorni dal momento che ci siamo sempre e soltanto limitati a riportare al territorio quello che la politica ci aveva detto senza aggiungere nulla e senza togliere nulla Lo dicevamo una notizia che avrebbe suscitato diversi commenti da parte della città e delle istituzioni ebbene sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Nino Naso che ha dichiarato è stata fatta un'importante battaglia ora occorre andare avanti Sindaco parliamo della vicenda ospedale è arrivata una nota dell'ASPA di Catania che puntualizza restano i servizi di otorino laringoiatria e psichiatria ma infatti io devo ringraziare il dottore Gianmanco ma devo ringraziare il presidente della regione ringrazierò sempre l'assessore alla sanità così come ringrazio tutti quelli che si sono adoperati per far sì di fare una battaglia seria sull'ospedale ringrazio anche il comitato per quello che fa voglio continuare ad essere come sindaco il padre di tutti quanti e sappiamo che su queste vicende è importante per la nostra città ci vuole unità di intenti e dobbiamo essere tutti uniti per trovare le soluzioni spieghiamo nella sintesi magari quello che è successo è stato richiesto a livello ufficiale di mantenere le due unità operative complesse quindi è stato richiesto quella di psichiatria e quella di otorino a livello regionale quindi dalla commissione che poi doveva essere accolta anche dall'assessorato regionale in questo momento non è stato possibile quindi diciamo che l'ASP come atto aziendale trasformando l'otorino in unità semplice però la sta mantenendo come servizio e questo è sempre un ottimo risultato per quanto riguarda perché mi sono sentito personalmente io con il dottore Giammanco per quel che riguarda invece la psichiatria che doveva essere spostata in quel di Biancavilla lì non sono nemmeno attrezzati quindi c'è l'impegno di mantenerla nel nostro ospedale continuiamo a lottare per ottenere sempre più risultati ma sono convinto della sinergia che dobbiamo avere intanto fra di noi paternesi quindi eliminiamo gli equivoci che ci possono essere siamo tutti paternesi c'è l'istituzione che ha il compito di interloquire con le altre istituzioni ci sono i comitati e le associazioni che collaborano insieme all'amministrazione comunale per cercare insieme di trovare le soluzioni quindi da parte dell'amministrazione c'è un'apertura a tutti quanti lavoriamo insieme io a giorni, anzi lo dico anche qua ufficialmente dai vostri teleschermi mi incontrerò con il comitato vedremo insieme di trovare strategie perché possa sempre di più dare, ecco, far capire a livello regionale l'importanza strategica che ha il nostro ospedale Santissimo Salvatore non sono battaglie personali sono battaglie per la salute dei cittadini che ci deve trovare tutti uniti e arriva anche una dichiarazione da parte del consigliere comunale Antoni Di Stefano che ha commentato le ultime evoluzioni sul Santissimo Salvatore e invita le parti a proseguire il lavoro per tutelare l'ospedale di Paternò consigliere Di Stefano lo avevamo detto che le recenti evoluzioni della questione che riguarda il Santissimo Salvatore avrebbero suscitato diverse riflessioni civiche e politiche continuiamo a registrarle proprio come sintomo di una città che continua a porsi delle domande e continua appunto a tenere accesa l'attenzione su questa vicenda ma a me quello che dispiace è la confusione che sembra quasi si sia voluta creata d'arte soprattutto in queste ultime 24-48 ore io credo che oggi ci sarebbe soltanto a dire una cosa ringraziare in maniera assolutamente serena il governo regionale, il presidente Musumeci l'assessore regionale Razza per l'attenzione in senso di giustizia e di diritto che è stato affrontato nei confronti della sanità a Paternò e nel territorio ringraziare anche il comitato per l'ospedale del quale io non faccio più parte dal giorno in cui mi candidai per il lavoro che ha portato avanti ha compiuto in silenzio, con capabilità e con determinazione anziché alimentare delle fake news perché quelle sono state davvero le fake news cancellazione di reparti e tutto il resto che purtroppo sono venute fuori dai massimi rappresentanti istituzionali della nostra città l'avessi scritto io, l'avessi scritto lei o qualsiasi altro giornalista o notizia di quel tipo sarebbero scattate querele, minacce e tutto il resto non si può essere imprudenti in questa maniera non si può essere imprudenti così non lo merita la città ma non lo merita neanche chi ha battagliato e continua a battagliare certe volte questa città sembra essere presa dalla sindrome di Tafazzi è meglio quasi per noi martellarci piuttosto che riconoscere che bisognerebbe lavorare tutti assieme invece no, ognuno che coltiva il proprio orticello questa volta mi dispiace dirlo però non ci ha fatto una bella figura da un punto di vista istituzionale della città non ce l'ha fatta, non ha fatto una bella figura noi tutto quello che sta accadendo anche da un punto di vista politico dobbiamo prenderlo con moderazione senza cantare vittoria non c'è niente da festeggiare però dobbiamo essere seri nei confronti della città non ci possiamo lasciare andare a queste imprudenze soprattutto nel gettare fango a chi davvero a testa bassa e in silenzio ha lavorato in tutti questi anni per cui il mio è più che altro un invito adesso si lavori tutti assieme se davvero si ha la voglia quello che ha cominciato il governo regionale con molto senso di responsabilità provi adesso a mantenerlo con altrettanta responsabilità che oggi amministra e governa questa città noi come opposizione io in prima persona lo faremo sicuramente chiudendo l'ampia pagina dedicata alla questione ospedale di Paternò registriamo anche la dichiarazione giunta durante la giornata da parte del Presidente del Consiglio Comunale Filippo Sambataro che ha dichiarato non posso che apprendere con soddisfazione la volontà del Direttore Generale dell'Asp di voler mantenere nel redigendo piano aziendale una unità operativa semplice di Otorino Laringoiatria e per quanto riguarda l'unità operativa di psichiatria a valutare una sua collocazione all'interno dell'ospedale per potenziarne i servizi erogati considerata l'importanza e la serietà della questione prosegue il Presidente Sambataro invito pubblicamente l'Assessore Razza il Direttore Generale Giammanco il Presidente della Sesta Commissione alla Sanità dell'Ars Margherita Larrocca Ruvolo ad un confronto in Consiglio Comunale che convocherò già nei prossimi giorni cambiamo argomento e andiamo a Belpasso speleologi del club italiano alpino insieme ai carabinieri questa mattina hanno recuperato le lettere abbandonate da un postino di un'azienda privata nella Grotta del Diamante a Belpasso l'uomo, un 21enne di Catania è stato denunciato è stato identificato e denunciato il postino accusato di aver abbandonato almeno 2000 lettere gettandole all'interno della cosiddetta Grotta del Diamante in territorio di Belpasso non si sa cosa gli sia passato per la testa ma l'unico indiziato dell'abbandono di corrispondenza un 21enne di Catania forse ha pensato che gettando tutte quelle lettere in una grotta nessuno le avrebbe più trovate ed invece qualche giorno fa un gruppo di speleologi durante un'escursione si è ritrovato nella grotta davanti ad una marea di lettere ancora imbustate Poste Italiane aveva subito confermate di non avere responsabilità dell'accaduto e infatti l'uomo denunciato è un impiegato di una società di servizi l'Olimpo Service SRL delegata alla consegna di corrispondenza in ambito regionale corrispondenza inviata da istituti di credito studi legali, compagnie assicurative e società di servizi a privati cittadini la direzione della società sollecitata dai carabinieri ha chiarito il meccanismo utilizzato per lo smistamento della posta fino a giungere alla responsabile dell'abbandono che adesso dovrà rispondere di violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza questa mattina a partire dalle 6.30 il personale del club alpino italiano ha recuperato in presenza dei carabinieri quasi tutta la corrispondenza depositata sul fondo della grotta riempiendo ben sette sacchi di juta posti sotto sequestro dai militari dell'arma un recupero reso non facile non soltanto per la difficoltà di reperire la corrispondenza dentro la grotta ma anche per il fatto che qualcuno aveva già tentato nelle ore precedenti di dare fuoco alle lettere dentro l'ingrottamento lavico il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di palermo e il ROS dei carabinieri hanno dato esecuzione in un'operazione congiunta e coordinata dalla procura della repubblica di palermo ad un provvedimento di sequestro emesso dalla tribunale di trapani nei confronti di Giovanni Savalle esperto fiscale tributario ed imprenditore operante nel settore alberghiero ed immobiliare l'uomo secondo gli inquirenti sarebbe vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro il valore dei beni sequestrati ammonta ad almeno 60 milioni di euro tra i beni sequestrati a Giovanni Savalle c'è anche la struttura dell'ex hotel Kempischi resort di lusso di Mazzara del Vallo operazione simile per certi versi condotta questa volta dalla DIA Messina 13 provvedimenti cautelari e sequestri condotti durante un'operazione che come dicevamo è stata condotta proprio dalla DIA di Messina insieme anche ai colleghi di altri capoluoghi di provincia è stata scoperta un'organizzazione che nel comune di Messina condizionava appalti per favorire imprenditori amici un'operazione che scuote il comune di Messina dove alcuni erano attivi per gestire appalti e favorire imprenditori amici una vera e propria organizzazione sgominata dalla DIA di Messina insieme ai colleghi di Catania Reggio Calabria, Palermo, Bari, Roma Caltanissetta, Catanzaro ed Agrigento 13 i provvedimenti cautelari firmati dal GIP del Tribunale di Messina che ha anche disposto il sequestro di imprese e beni per un valore di oltre 35 milioni di euro l'inchiesta coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia è stata denominata terzo livello due i filoni dell'inchiesta il primo ha permesso di scoprire una rete di rapporti clientelari affaristici dove la figura principale è quella di Emilia Barrile ex presidente del Consiglio Comunale e nel corso delle ultime elezioni candidata a sindaco non eletta la Barrile con il supporto del suo consigliere Marco Ardizzone interveniva con metodicità negli uffici competenti del comune o delle aziende partecipate perché alcune istanze avanzate da imprenditori amici venissero portate a buon fine finalizzando tale condotta ad acquisire consenso anche in prospettiva elettorale soprattutto attraverso la distribuzione o la promessa di posti di lavoro presso le imprese dei richiedenti la Barrile, secondo la DIA si prodigava a risolvere problematiche burocratiche strane al suo mandato e abusando della sua influenza politica nell'apparato amministrativo della città in favore di potenziali portatori di pacchetti di voti secondo Filone riguarda invece la frenetica attività di Vincenzo Pergolizzi soggetto contiguo alla criminalità organizzata operande a Barcellona Pozzo di Gotto Messina e Catania e sottoposto all'obbligo di soggiorno nel comune di Milazzo che attraverso la complicità di familiari e persone di fiducia ha cercato di sottrarre i suoi beni alle procedure di prevenzione cercando anche il recupero coattivo del credito erariale da cui le stesse sono gravate quasi un milione dovuto all'erario con questi intenti oltre a numerose trasformazioni societarie per mezzo dei propri familiari Pergolizzi ha anche inscenato fittizie controversie lavorative con dipendenti di fiducia al fine di svuotare fraudolentemente le proprie società di beni e capitali il GIP ha disposto anche il sequestro di capitali e compendi aziendali e di 11 immobili per un valore di oltre 35 milioni di euro Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità la nostra informazione riprende subito dopo Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza realizzando impianti fotovoltaici sia di grandi che di piccole dimensioni Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie dall'installazione all'assistenza post vendita fino alla manutenzione Affidati a personale esperto Scegli Energreen Power In questo periodo da Energreen Power grandi promozioni Impianto fotovoltaico 3 kW più batterie accumulo 2,4 kWh Offerta chiave in mano IVA inclusa 6.900 euro Impianto 4,5 kW più batterie accumulo 4,8 kWh Offerta chiave in mano IVA inclusa 9.900 euro Impianto 6 kW più batterie accumulo 5,5 kW Offerta chiave in mano IVA inclusa a 13.900 euro Per info e sopralluoghi chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408 Energreen Power Contrada a Tre Fontane Paternò Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Rientriamo in studio con la seconda parte del telegiornale 7 milioni di euro destinati ai giovani siciliani che in regime di apprendistato potranno conseguire un titolo di studio e contestualmente imparare un mestiere il governo musumeci ha approvato le linee guida sull'apprendistato di primo livello che in linea con il quadro normativo nazionale promuovono l'attivazione di un sistema basato sull'alternanza scuola-lavoro Il progetto coinvolgerà i ragazzi siciliani dai 15 ai 25 anni che potranno conseguire la qualifica professionale il diploma di istruzione secondaria di secondo grado professionale oppure ottenere il certificato di specializzazione superiore E a Drano si prepara a vivere il giorno di festa il giorno dedicato al Santo Patrono San Nicolopoliti giorno di vigilia quest'oggi, questa mattina uno dei momenti più attesi quello della benedizione dei bambini che è stata impartita intorno a mezzogiorno dopo il trasferimento del simulacro e delle reliquie di San Nicolopoliti in Chiesa Madre Vediamo le immagini La vigilia della festa patronale oggi ad Adrano è cominciata alle 6 del mattino con il pellegrinaggio dei giovani dalla chiesa di San Nicolò sino alla grotta del Santo alla Spicullu Alle 11 il simulacro e le reliquie di San Nicolò dopo una breve processione sono state trasferite in Chiesa Madre e qui intorno alle 12 uno dei momenti più teneri e più attesi dalle mamme adanite quello della benedizione dei bambini centinaia di bambini alcuni con il saio bianco da piccoli i devoti si sono collocati davanti l'altare maggiore della Chiesa Madre per ricevere la benedizione in partita dal Monsignor Benedetto Currao e dal parloco Padre Salvatore Stimoli La benedizione dei bambini è un momento particolare perché invochiamo ecco dal Signore questa forza volento che è la benedizione non è fisica ecco la presenza di Dio come durante la celebrazione dell'Eucarestia perché stando alla nostra fede il Signore si rende appunto presente fisicamente anche se nascosto nel pane nel vino una materia come frutto della terra che in fondo lui stesso ci ha dato la benedizione invece che invochiamo appunto è sempre una forza anche se spirituale ma che comunque è una presenza che ci aiuta ad affrontare perché no le difficoltà della vita perché proprio ecco per i bambini all'inizio di questa festa perché il Vangelo ci invita noi adulti a diventare come loro non tanto nell'altezza ecco nell'età ma quanto nella purezza e nella innocenza perché Gesù l'ha detto molto chiaro e in maniera molto schietta se non diventerete come loro non sarà mai possibile entrare nel regno dei cieli benedizione che è stata fatta con una delle reliquie di San Nicolò il dente che è accanto a lei sì la reliquia più importante come sappiamo è il teschio così anche le pergamene ecco quei ecco fogli per così dire di un testo che San Nicolò Politi stando alla tradizione usava come preghiera e appunto anche il dente con una piccolissima reliquia che appunto ecco fa anche a volte il giro delle comunità parrocchiali della nostra città con il simulacro la stato di San Nicolò Politi nuova opera di street art a firma di TV Boy il collettivo artistico colpisce in Sicilia e più precisamente a Giardini Naxos con un murales dedicato a Matteo Salvini dal titolo Matteo il Vucumpra il ministro dell'interno è raffigurato in zandali mentre imbraccia il tipico banco utilizzato dai venditori abusivi sulle spiagge contando di teli da mare orologi e occhiali da sole affinché ci sia maggiore sicurezza sulle spiagge italiane ha scritto il collettivo sul profilo facebook il ministro degli interni Matteo Salvini ha deciso di presentarsi in prima linea come rivenditore ambulante di articoli da mare e TV Boy e lo stesso artista che durante le consultazioni del presidente Mattarella ad inizio della nuova legislatura affrescò Roma con l'ormai celebre bacio tra Di Maio e Salvini i soldati canadesi che nel 1943 erano ad Adrano hanno aiutato mia madre a partorire trasferendola in ospedale Gaetano Odio lo sa 75 anni ad Adranita racconta così il suo legame con i canadesi che proprio nei giorni scorsi nella comune Adranita hanno celebrato il 75esimo anniversario dello sbarco alleato sabato scorso si sono svolte ad Adrano le celebrazioni del 75esimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia una occasione per la comunità canadese per ricordare il sacrificio dei suoi soldati per questo motivo è stata collocata una targa commemorativa alla villa comunale e dei paletti con i nomi delle vittime una occasione anche per insaldare l'antica amicizia fra canadesi e italiani e adaniti in particolare e c'è una Adanita che non dimentica affatto l'arrivo dei canadesi ad Adano nel 1943 per il semplice fatto che i canadesi l'hanno aiutato a nascere si chiama Gaetano Diorosa ed è nato l'8 agosto del 1943 quindi combina 75 anni fra pochi giorni ci ha raccontato che il giorno in cui è venuta la luce i soldati canadesi che si trovavano in quei giorni ad Adano hanno svolto un ruolo importante per lui e sua madre a quell'epoca la mamma abitava in via Catania quando era giunto improvvisamente il momento di partorire è stato chiesto soccorso ed è stato quasi naturale rivolgersi ai soldati canadesi che senza pensarci due volte hanno caricato la mamma di Gaetano su una barella per trasportarla all'ospedale di Adano e Gaetano è nato grazie anche ai canadesi come racconta i nostri microfoni mia mamma mi diceva mi hanno preso i canadesi mi hanno preso la barella e mi hanno portato all'ospedale qua ad Arà e ho portato il lotto di Agofito un parto travagliato ma nello stesso tempo perfetto perfettissimo esatto ne hai parlato immagino sempre in famiglia di questo fatto no non ne parliamo perché non c'è l'occasione già ora c'è una bella occasione di questa però la mamma lo ha ricordato sempre questo fatto ora non c'è più però io me lo ricordavo sempre la mamma lo raccontava sempre questo momento sì quando cominciò a capire dove è così la vita sì sì io sono felice e contenta quindi i canadesi hanno aiutato la mamma a partorire sì se l'hanno portata all'ospedale quindi lei insomma è riconoscendo un po' i canadesi giusto no un po' così esatto giusto e con queste immagini si conclude il telegiornale per questa sera il prossimo appuntamento sarà domani con l'edizione del giorno delle 13.30 vi ricordo sempre i nostri aggiornamenti sulla pagina facebook e sul sito cactelesud.com a voi buon proseguimento di serata il prossimo appuntamento di serata